ciao a tutti io sono lorenzo carcassi nella guerra a cuba interpreterò filippo filippo ha appena compiuto 40 anni non ha stimoli né scopi nella sua vita e verrà immischiato suo malgrado forse no all'interno di un gruppo di estrema destra e poi il suo percorso andrà chiaramente ad intrecciarsi insieme a quelli degli altri personaggi protagonisti del film a me filippo è piaciuto subito sin dall'inizio sin dalla prima lettura perché non è un personaggio scontato per niente e devo dire la stessa cosa della sceneggiatura io ci tengo a sottolineare questo perché in un periodo storico in cui integrazione e attendibilità sono due argomenti molto delicati e caldi in un periodo storico in cui c'è questa necessità bulimica mi sembra di capire su scala internazionale di etichettare tutto e tutti credo sia fondamentale raccontare una storia del genere far vedere più punti di vista insieme in modo da coinvolgerci e coinvolgervi nel miglior modo possibile è una storia vera nella sua complessità ed è una necessità appunto raccontare qualcosa di vero e oggettivo secondo me in questo momento nel nostro paese un piccolo ricordo della nostra campagna crowdfunding se volete potete sostenerci fatelo ci fa piacere avere questo tipo di sostegno di supporto anche durante la preproduzione e la produzione io vi auguro sin da adesso un buon proseguimento e una volta che uscirà il nostro film una buona visione grazie ancora per la vostra attenzione